Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere io sono vestita da cavallo perché devo andare al maneggio e oggi avevo intenzione di farmi un vlog. Quindi vi porterò con me al maneggio e anche al torno. Faremo un botto di cose lì. Quindi niente, ci vediamo quando saremo arrivati al maneggio. Ciao! Ok, ragazzi, intanto che attendiamo che torni mio padre per andare al maneggio, siamo usciti fuori per prendere il mio micio che lo abbiamo lasciato fuori un pochino. Infatti vuole anche rientrare. Aspettate. Eccolo qui, Leo, che sole che c'è oggi. Vuole rientrare, piccolo? Si è legato tutto? Mannaggia a lui. E Mau, gira. Aspettate, qua ci vuole pazienza. Ecco qui, l'ho slegato che si era legato. Buono, va dato, Leo. Amore mio, bello. Ditemi se non è buono. Patato mio. Ok, adesso impresa impossibile, dobbiamo sciogliere questo coso. Oggetto che sei incredibile, tu. Micione è mio. Micione è bello. Mi muore. Patato mio. Ok, sono riuscita a slegare questo maledetto nodo. Adesso ribottiamo il mio micione dentro. Ah, patato mio. Patato mio. Andiamo a casa, forza. Andiamo a casa. Andiamo. Brava. Vai. Bravissimo. Ok, ragazzi, adesso veramente ci vediamo quando siamo arrivati al maneggio. Ciao a tutti. Ok, ragazzi, adesso siamo in macchina. Stiamo andando a mangiare e poi andiamo al maneggio. Ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Ok, sto in macchina anche con mio fratello. Salute. Bene, bene. Non fare quel saluto da maiale. Ok, ragazzi, ci vediamo al maneggio. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. E' così, siamo arrivati al maneggio, ragazze. Fatti vedere. No! Ciao, ciao. Guarda, ci sono le mie amiche. Questo è il cavallo che oggi monterò, ragazze. Guardate. Guarda il mio, mi vedo io. Mi dai tanto foto un modello, ragazze. Aspetta, fai vedere che non sapete niente. Un cavallone bello, sexy. Ok, perfetto. Questo è il cavallo che monterà invece di Letta. Non guardate, è bella. Ti ho detto. No, tu sei rincoglionita. Ciao, ciao. Ed ecco qui invece il mio cavallino. Amore Snoopy. Non si vede, raga. E' bellissima che tipo qua sulla schiena c'ha una riga. Non si vede. Mannaggia la minchetta. Amore. Pizzalo. C'ha un occhio diverso dall'altro. Va bene, ci vediamo. Adesso vi metterò il video della lezione, se ci riuscirò a farla, magari. Ok, ragazzi. Scusatemi, ma purtroppo non sono riuscita a mettervi il video della mia lezione, perché non c'era nessuno che poteva riprendermi. Quindi, vabbè, spero che il video vi piaccia lo stesso. Adesso metterò dei video in cui salta quattro zampe nel campo e niente, godetevi questo video. Grazie a tutti. Ok, ragazzi. Allora, dopo lezione sono andata a casa di una mia amica. Sono riuscita a convincere mia madre a mandarmi. E appunto sono andata a casa di questa mia amica. E mi sono diventita un botto. Vi ho fatto un bel po' di salti. Quindi, godetevi il video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Allora, purtroppo ieri sera era troppo tardi per riprendere, perché siamo tornate a casa tardi. E quindi non vi ho potuto riprendere il ritorno. E appunto vi voglio salutare adesso, cioè il giorno dopo. So qui da mia nonna e niente, vi voglio salutare. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.